Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi tutti i prodotti make-up che ho terminato negli ultimi mesi. Comunque, sono prodotti accumulati e messi qua, come avete visto, in questo bel recipiente, che io amo questo colore. Alcuni sono prodotti che mi avete visto utilizzare in tantissimi video, altri un po' meno, ma siamo qua per tirare le somme. Quindi, per dirvi come mi ci sono trovata, se sono prodotti che andrei a ricomprare o meno. Inizierei subito da un prodotto che per me è diventato indispensabile. E' questo qui, che sarebbe il Lipoil di Astra, che non è nient'altro che un olio idratante per le labbra. L'ho inserito in questa categoria perché per me è diventato importantissimo come pre-make-up. Quindi, prima di andare a truccare le labbra con un rossetto matte, con qualsiasi tipo di rossetto che possa essere una tinta, oppure semplicemente non metterci niente, prima di truccarmi metto questo olio sulle labbra, che lo trovo veramente molto idratante. Questo fa parte della linea Pure Beauty di Astra, quindi una linea comunque composta con il 90% di ingredienti naturali. Mi piace tanto l'applicatore, cioè guardate com'è piccioso. Potete metterlo facilmente perché, avendo un applicatore, come vedete, abbastanza grande, si riesce a distribuire bene il prodotto. Lo trovo idratante, ma non appiccicoso, quindi non sentite quell'effetto golloso che magari davano i gloss di una volta. E, come vedete, l'ho terminato. Ho messo giusto un'applicazione, barra 2, ma in realtà ne sto già utilizzando un altro che vi voglio far vedere. Perché vedete la colorazione, che qui magari non era percepibile? È leggermente pescata, ma in realtà sulle labbra risulta trasparente, dà giusto un velo di colore, ma è quasi impercettibile. E la profumazione è veramente molto neutra, quindi non dà fastidio anche a tutte quelle persone che di solito non amano la profumazione forte nei prodotti. In questo caso io dico sia cosmetico che curativo, perché in realtà io lo utilizzo anche senza mettere niente. Tanto la mascherina comunque mi idrato le labbra e se la devo togliere è comunque molto carino da vedere. E io di questi ne ho fatto la scorta. Veramente mi sono piaciuta talmente tanto che ho preso e un po' guardato il sito di Astra e li ho ordinati a non finire. Mi sono piaciuti tantissimo e ve lo consiglio. Ho provato anche questo qua della Labello, che è il stesso concetto, però per adesso non mi sta facendo impazzire quanto questo. Cioè trovo che questo di Astra idrati molto molto di più. Un prodotto che ho ricomprato negli anni è questo qua di Nabla. Quindi non è la prima volta che vado a terminarlo ed è un correttore della linea Close Up. In particolare questo qui è la colorazione Ivory, che è la più chiara, o una delle più chiare se non sbaglio. Per me risulta un po' chiarina, quindi l'andavo ad utilizzare o per illuminare, oppure qui come vedete io ho il solchetto. Quindi mettendo un po' di correttore chiaro qui fa sì che l'occhiaia si veda un po' di meno. È un correttore che comunque mi piace, ha un buon odore di cocco, cocco vaniglia. Ha l'applicatore abbastanza grande, quindi con una pucciata andate a ricoprire tutta la zona del contorno occhi. L'unica cosa è che utilizzo costante, dura poco a mio parere. Non riesco a trovare quanti ml sono, però comunque diciamo che la quantità degli ml dei correttori sono sempre più o meno quella. È un correttore comunque che mi piace, copre tanto, che però non consiglio a tutte quelle persone che alla mattina vanno di fretta. Perché non è un correttore che si stende facilmente con le dita, ma comunque avrete bisogno di una spugnetta inumidita. Perché se utilizzate una spugnetta asciutta rischiate di avere un brutto effetto. Perché essendo molto coprente come correttore risulta anche un po' pastuoso se non viene steso col metodo giusto. Io l'ho provato in questi anni in tutti i modi, alcune volte mi piaceva tantissimo, altre volte l'ho anche perfino odiato. Perché tutto sta nella giusta applicazione. E devo dire che picchiettato e poi steso con la Beauty Blender, molto bagnata, quindi inumidita e bella strizzata. Devo dire che questo correttore mi piace e che andrei a ricomprare molto volentieri. Quindi lo consiglio a tutte quelle persone che hanno molte occhiaie e che comunque l'obiettivo è quello di andarle a coprire completamente. Questo qui potrebbe fare il caso vostro. Un altro prodotto che è sempre della famiglia Nabla è la cipria in polvere libera della linea Close Up. Questa è la Baking Setting Powder. Quindi una cipria comunque si adatta per fissare tutto il viso ma anche specialmente per andare a effettuare la tecnica del baking. Per chi non lo sapesse è quella sorta di tecnica che una volta che prendiamo la spugnetta la intingiamo nella cipria e andiamo a tamponarla appunto nella zona interessata. Che potrebbe essere i contornocchi ma potrebbe essere mento, fronte, un po' ovunque. Così facendo la cipria, lasciandola agire qualche minuto, qualche secondo, a seconda del vostro tipo di pelle. Una volta che la rimuoviamo abbiamo la zona più diciamo levigata, più opacizzata e quindi il trucco terrà meglio. Le linee di espressione sembrano meno visibili e quindi questa cipria è adatta per questo. Sono 30 grammi di prodotto. Ne è rimasto veramente un pelo qui ma nel momento in cui voglio farlo uscire ne esce pochissima. E diciamo che non è sufficiente per andare a fare tutto il viso. Sono rimasti giusti dei granelli che appunto non riescono a passare dai foretti. Ma per il resto devo dire che è una cipria che mi è piaciuta tanto, anche se la vedete bianca, di base e trasparente. Mi è piaciuta tantissimo e ve ne ho appunto parlato in un video apposito. Sendo un amante di fondotinta cipria, quindi prodotti per la base, questa qui. E quindi ne ho provati veramente tanti nell'arco degli anni, che magari neanche vi ho mostrato qua su YouTube perché ancora non avevo il canale. Però devo dire che io da una cipria ricerco che mi vada ad opacizzare appunto la pelle e ovviamente mi vada a fissare il fondotinta o il correttore. Quindi mi fa sì che il prodotto non mi si muova da mattina a sera e questa lo fa. Cerco adesso, avendo quasi 30 anni, diciamo siamo agli sgorcioli, cerco comunque un prodotto che se è possibile mi vada a minimizzare anche le linee di espressione. Che possono essere queste qua attorno alla bocca, sotto gli occhi, oppure se vi si formano le rughette qua su. E questa lo fa per chi ha una texture veramente sottile, quindi non va a dare spessore alla base. Quindi non è che vi si vede questo viso tutto incipriato e vi mette risalto la peluria del viso, ma comunque vi va a levigare la zona, vi rende il viso molto molto naturale. Sembrate veramente uscite da un set di trucco perché, cioè, fa i miracoli questa cipria. Anche su un fondotinta che non è chissà quanto bello, quindi che non astringe i pori e via dicendo, questa cipria mi è piaciuta tanto. Ma la cosa importantissima è che, anche utilizzata in inverno, quindi con le giornate più fredde, non secca la pelle. Cioè, io nonostante una pelle comunque mista, alcune ciprie sono talmente asciutte da asciugarmi troppo e quindi sento proprio la pelle che mi tira. Con questa qui non avviene, è una cipria che mi è piaciuta veramente troppo, 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 ma se vi va di saperne di più, comunque vi lascio il video qua su o qua sotto e troverete più informazioni anche l'applicazione. Sempre in tema base ho finito l'Instant Anti-Age Ghiblin, il correttore Cancelletà, il famosissimo correttore, che comunque, come potete vedere, è un correttore con la spugnetta incorporata, un correttore che esiste da tanti anni, l'avrò ricomprato 50.000 volte. È un correttore leggero, idratante, che però per tutti i giorni va bene, cioè va a coprire le occhiaie, non vi aspettate un full coverage come questo di Nabla, però è un correttore molto valido, che appunto tendo a ricomprare negli anni, costa poco, delle volte lo trovo in offerta poco più di 6€ e quindi è valido perché non secca e anche per le persone che hanno un contorno occhi più segnato del mio, questo correttore comunque ha la capacità di non infilarsi nelle pieghe e mi piace tanto, devo dire la verità. Un tempo c'era anche il fondotinta, cancelletà con la spugnetta, qualcuno di voi se lo ricorderà, sto parlando di diversi anni fa, e mi piaceva, nonostante io comunque prediligo i prodotti matti, quello mi piaceva perché era talmente sottile che mi dava un bel effetto, peccato che non c'è più, o perlomeno se c'è fatemelo sapere, ma avrà cambiato packaging, avrà cambiato insomma qualcosa, non l'ho più visto. Un altro correttore che mi piace tantissimo è questo qui di Catrice, un altro prodotto super economico perché questo è un correttore che costa poco più di 3€ ed è il Catrice Camouflage. Paragonato agli altri due, devo dire che io preferisco questo perché ho più coprenza del cancelletà, però ho meno pesantezza e passosità del Nabla, quindi riesco a... è una via di mezzo tra i due e mi piace tantissimo. La colorazione che io compro sempre è la 020, come è un prodotto che ricompro sempre, quindi non mi ci voglio delungare, l'ho terminato perché di questi ne termino sempre tantissimi, non ve lo posso fare altro che consigliare, copre, non secca, non finisce nelle pieghe, waterproof e dura tutto il giorno, mi piace tantissimo. Un correttore invece che non ricomprerei è questo qui di Cover Pro, in realtà è bella, la marca è bella oggi, è un marchio italiano, forse non conosciuto neanche da tantissime persone, ne è rimasto un po' ma si è seccato, come vedete è un correttore comunque da prendere col pennellino, col ditino, però comunque è un correttore molto molto coprente che io utilizzavo sui brufoli, quando mi venivano quelli potenti, è un correttore di base secco, quindi non è che potete andare ad utilizzare sulle occhiali, se cercate un prodotto per il viso può fare anche il caso vostro, però devo dire che per me è molto molto scomodo dover andare a prendere col pennellino, quindi dover lavare il pennellino tutti i giorni, perché essendo che lo utilizzavo sui brufoli, non è cosa, cioè non fatelo di utilizzare un pennello a toccare il brufolo oggi, riutilizzarlo su un altro brufolo domani, perché rischiate di aggravare la situazione, quindi diciamo lo boccio anche proprio per il concetto del prodotto stesso, perché poi essendo molto cremoso, per forza col pennellino, cioè col dito rischiavate di ritrovarvi tutto il prodotto sotto l'unghia, e niente, quindi costava poco, sì 5 euro, però sinceramente non lo ricomprerei. Ho finito poi un setting spray di MAC al profumo di cocco, e devo dire che questi qui ne ho tanti, anche davanti, per cui lo guardavo lì, mi piace tanto utilizzarlo più che primer come fissature, quindi una volta che ho finito la base, prima di mettere il mascara e ci trovavo a spuzzarlo, l'unica cosa che non mi piace tanto è che verso la fine, come vedete ce n'è un po', non si riesce a prendere, o perlomeno si spruzza, ma spruzza dei goccioloni, in modo di pioggia del deserto, quando la fa bella potente, quindi sinceramente no. Mi piace perché comunque va a togliere l'effetto super incipriato che dà la cipria, delle cipria, non tutte ovviamente, e per quello spesso lo ricompro, però ci sono prodotti che costano molto meno, che svolgono comunque la stessa funzione. Questo qua, mi ricordo che avevo preso il kit mini e ce n'è rimasto ancora un altro qua davanti, che ha il gusto lavanda, gusto, profumo lavanda, comunque di solito questi di MAC devo dire che sono molto molto buoni, anche se ultimamente mi sto trovando molto bene con questo qua di Urban Decay, cioè fa più al caso mio, mi setta meglio la base, me la fissa di più ed opacizza meglio, perché ho bisogno anche di quello ovviamente, avendo una pelle mista grassa. Ho terminato due mascara, o meglio, il primo, questo qui, il Baby Roll Mega Volume, è terminato, questo è un mascara che mi piace tantissimo, è della L'Oreal, ha uno scovolino un po' particolare, perché sembra tipo una sorta di vortice, che però cattura benissimo le ciglia, veramente mi fa delle ciglia stupende, è uno dei mascara che se vedi in offerta ricompro, infatti avevo comprato due mascara a 9 euro. Questo normale, quest'altro nella versione waterproof, ha lo stesso scovolino, però purtroppo questo qui l'ho terminato, questo non del tutto, devo andarlo a gettare intero, perché essendo una formulazione waterproof non l'ho utilizzato tanto, sono sincera, io non prediligo il mascara waterproof, perché comunque al mare non ci vado col mascara, in ogni caso se mi capita di piangere riesco a sciogliere anche questo, perché faccio un disastro, quindi io il mascara waterproof non lo so, per tante può essere sicuramente indispensabile, per me non lo è, e quindi questo ve lo posso consigliare al 100%, dà molto volume, ma anche lunghezza, però ve le definisce, cioè non lascia le ciglia attaccate, questo qua col volume è cambiata la formula, perché ovviamente è waterproof, e non mi fa impazzire quanto questo, e a distanza di tempo, perché il mascara scade dopo 6 mesi, cioè io riesco a tirarla anche un po' di più, però si è proprio seccato, però devo dire che se trovate la combo, anche voi a 9-10€, ovviamente prenditela, perché questo mascara da solo costa a volte anche 15 a prezzo intero, dipende da dove li comprate, però io questi di L'Oreal riesco sempre a prenderli sulle 9€, e questo è un mascara che, ecco, questo video mi farà venire in mente, che è da ricomprare, è da provare quando lo trovo in offerta, assolutamente. Ho terminato per le sopracciglia un prodottino di Neve Cosmetics, su questo mi è dispiaciuto tantissimo, in poche parole sarebbe un prodotto, come vedete dall'applicatore, piccolino, che va a pettinare le sopracciglia e le va ad infoltire, diciamo che a differenza di altri gel di questo genere, oltre a fissarle, dà tantissimo colore, e all'interno, avendo le fibre, vi infoltisce veramente tanto le sopracciglia, ma ci credete che questo prodotto, cioè, tempo forse due mesi mi è finito? Mi è durato veramente pochissimo, la colorazione era anche un po' troppo chiara per me, ma l'avevo comprato online, e la colorazione è quella per le bionde, ma troppo troppo chiara, però veramente mi è piaciuto tantissimo, cioè, infoltisce veramente tanto le sopracciglia, per chi non ha tante sopracciglia, come me, le ha, diciamo, un po' con dei buchetti, questo è un prodotto che è messo sulla matita, quindi per andare a concludere la vostra sopracciglia, oppure è messo sul gel, sul pot, veramente vi fa sembrare le sopracciglia molto più naturali, quasi come se non fossero state truccate, come se ci fossero più peletti, quindi è un prodotto che mi sento di consigliarvi, ne ho provati altri, sempre con la stessa funzione e con lo stesso scopo, ma devo dire che questo mi è piaciuto più di tutti, peccato che costa sulle 12 euro, e quindi siccome mi è durato veramente molto poco, perlomeno io che mi trucco quasi tutti i giorni, può succedere quella volta che non mi trucco, ma su 7 giorni, 6 giorni sono truccata, e magari se vi truccate meno, ecco, vi durerà di più, e questo volevo dire, insomma. Vado a gettare poi questa spugnetta di Real Technique, Real Technique, e voi direte, beh, ma perché ce la fai vedere? Cioè, ovviamente tutte le volte che getto una spugnetta non ve la mostro, però questa qui ha una funzione diversa dalle classiche spugnette, per intenderci, ora ce l'ho lavata, la classica spugnetta di Real Technique, che io dentro questo involucro, quando la bagno per non avere, diciamo, per isolarla e farla asciugare, perché vedete è forata, la metto qui, ma non ha la stessa trama, diciamo questo, volevo dirvi, ma se riuscite a vedere ancora da qualche parte dove è possibile, è Modi Vellutino, e quindi questa è adatta per l'applicazione delle polveri, io l'ho utilizzata per un anno intero, tutti i giorni, veramente tutti i giorni, l'ho lavata, questa non tutti i giorni, perché la utilizzavo solo per il contorno occhi, però comunque l'ho lavata tantissimo uguale nell'arco di un anno, come potete immaginare, e quindi mi si è consumato, vedete, non c'è più questo vellutino in alcune parti, e vado a gettarla dopo un anno, ma è un prodotto che, c'è una spugna che vi straconsiglio, se siete amanti del baking, se comunque avete una pelle mista grassa e volete tamponarvi bene la cipria, questa riesce a catturarla, ma non a depositarla a chiazze, quindi che vi casca anche indosso, cioè, veramente, riesce a stendere la cipria in una maniera che neanche il pennello e nessun'altra spugnetta mi fa, sono ricordata di averne una nuova, che avevo comprato questo kit, trovato su Look Fantastic a 10 euro, cioè, guardate, ho tre spugne e una saponetta, vedete com'è? Ecco, io ce l'ho così, cioè, è tipo vellutino, vedete la differenza tra quella normale, che io lì ve l'ho fatta vedere arancione prima, ma in realtà c'è anche viola, e quella in vellutino, la trovate anche su Amazon, presa singolarmente, questa quanto è una spugna di Real Technique, ma, cioè, truccandomi tutti i giorni mi è durato un anno, secondo me, vi consiglio veramente di provarla, e mi piace tantissimo, mmm, è bellissima, infatti ancora non ho avuto il coraggio di rimetterne un'altra in uso, perché poi da nuova tutto questo pelo, sembrava belluto, un peluche, stupenda, stupenda, sia da vedere che nell'utilizzo, veramente mi sento di stra consigliarvela. Come sempre ci tengo, sì, a comprare tanto makeup, perché mi piace provare, mi piace comprare, mi piace testare e trovare il prodotto perfetto, penso che questa cosa non mi passerà mai, però ci tengo tantissimo anche a terminare le cose, cioè, quando apro un prodotto faccio tanta attenzione alla scadenza, a non andare oltre, poi dipende dal tipo di prodotto, e se vedo che cambia odore, cambia colore, cambia consistenza, lo vado a gettare, anche se ancora ce n'è all'interno, quindi non facciamo l'errore di dire, oddio, ancora c'è tanto prodotto, lo utilizzo uguale, no? Perché poi non si sa mai, magari è il stesso prodotto scaduto che ci causa imperfezioni e non ci fa bene la pelle. Comunque, spero che questo video vi sia servito, ci siamo tenute a compagnia, a vicenda, vi mando un rimesso bacione e ci vediamo se vi va in un prossimo video. Comunque, spero che questo video vi sia servito, ci vediamo se vi va in un prossimo video.